Voglio che esamini attentamente questo ritratto, signora Graham. Deve aiutarci a dare un volto a quella donna. Si tratta di omicidio. Non possiamo sbagliare persone. È evidente. Certo. Se il ritratto non le sembra soddisfacente, possiamo ricominciare da capo. Non abbiamo fretta. Sono così i suoi occhi. E la sua bocca? Coraggio, signora Graham. È incredibile, sembra di un adolescente qui. Guarda. E ora sei in mio potere, amico. Che intenzione hai? Ho voglia di divertirmi. Ti porterò a ballare. Ti piace qui? Ci vieni spesso? Questa è la prima volta. Cosa? Ho detto che questa è la prima volta, ma ne ho sentito parlare. Io non riesco a capire niente. Non importa. Ehi, come andiamo? E' un po' che non ti si vede. Voglio prendere qualcosa di diverso dal solito. Un Long Island Fred. Ma non volevi qualcosa di diverso? Infatti. È quello che ordini sempre. Credo che mi abbia confuso con un'altra persona. Può darsi. Due Long Island Fred in arrivo. Forse quel tizio ti avrà conosciuta da un'altra parte. Probabilmente è così. Magari assomiglia a qualcuna che conosce, qualche cliente abituale. Ma io non l'ho mai vista. Hai intenzione di mescolarlo all'infinito? Ma che stai dicendo? Io certe cose non le faccio. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.